L'altra notte ho fatto un sogno. Mi trovavo in una struttura medica mai vista prima, con il centralino personale sanitario. Le prenotazioni si potevano fare anche online o tramite app e gli appuntamenti venivano fissati entro le 24 ore successive. Le attrezzature erano di ultima generazione. Risonanza magnetica total body, aperta contro la claustrofobia, RX, TAC, mammografia, il reparto di cardiologia e medicina dello sport, fino all'odontoiatria ed ortodonzia. La refertazione era tutta in digitale o scaricabile online. Un vero centro eco green, senza spreco di carta. Poi ho scoperto che tutto questo esiste già. È la Casa della Salute di Genova, in corso Europa 1075 C. E c'è pure un ampio parcheggio, gratuito e riservato ai pazienti. Casa della Salute, la qualità di sempre, ad un euro o meno del ticket, senza tempo di attesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.